Partita insidiosa per l'Imperia che affronta la San Margheritese presso il campo sportivo Broccardi di Santa Margherita Ligure. Comincia subito forte l'Imperia con Costantini che al terzo minuto prova su calcio di punizione dal limite. Raffo devia la conclusione con Castagna che si avventa sulla respinta ma non riesce a concludere in porta. Al diciottesimo risponde la San Margheritese con Gallio che conclude di testa da distanza ravvicinata, ma Trucco blocca sicuro tra le braccia. Si chiude il primo tempo con poche occasioni da ambo le parti. La ripresa si apre all'insegna dell'Imperia con Mannini che al quarantanovesimo prova la conclusione a volo sul cross di Faedo, ma Raffo blocca sicuro. Al sessantottesimo grande intervento di Trucco su Megliallai che colpisce al volo su cross dalla fascia sinistra. Trucco si oppone alla conclusione deviando in angolo. All'ottantottesimo prova Giglio su calcio di punizione dal limite ma il suo tiro non trova la porta. Il match si conclude quindi a reti bianche.